Un piccolo grande film Il più sensibile, originale, commovente film italiano di Venezia scrive giustamente il Corriere della Sera Io sono lì e il primo lungometraggio di un valente autore di documentari pluripremiati Grazie 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 Al suo debutto Andrea Segre mostra una sorprendente bravura sia nel raccontare storie personali sia nel ritrarre ambienti e riportarne le giuste atmosfere Il film è al contempo un'acuta analisi di psicologie umane un veritiero quadro di provincia una decisa denuncia del bigottismo e delle diffidenze che troppo spesso rovinano le nostre vite aiutato da uno splendido complesso di attori e da un talentuoso cast tecnico Segre ci offre uno dei più sensibili e delicati film degli ultimi anni che chi ama il vero cinema non dovrebbe perdere un'opera che coinvince e coinvolge come poche coraggiosamente non doppiata i dialoghi sono in cinese e in stretto dialetto veneto il che contribuisce non poco a dare verità e sincerità al tutto intimismo e ironia miracolosamente fusi in un lavoro sottile e poetico scarno ed essenziale giustamente lento nel ritmo e nello svolgere uno dei temi più attuali del nostro tempo l'incontro-scontro tra etnie diverse attualità troppo spesso colpevolmente ignorata dalla nostra cinematografia grazie a tutti 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Auguri! Vedi quella? È l'unica casa che ho. Ma se ti avessi voglia le confidate, mi sono meglio nella tomba. La mamma è cinese e madedone in Italia che fa amare dare i vecchi che dopo viaggiava in Nordità. Sicuro? Adesso questa mercahia! Adesso questo... No, 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 no! Grazie a tutti.